E' sempre bello vedere che due persone testimoniano davanti ad una comunità che anche oggi è possibile dirsi di sì. Prima cosa sta per cominciare la partita dell'Inter, quindi forza Inter, ragazzi. Prima cosa facciamo un applauso agli sposi che stanno arrivando. I love you, I'm your friend, I'm your brother, give me a big hug. Infine grazie a tutti i piccoli di stai. Ehi, grazie. Ehi, grazie. Ehi, grazie. Ehi, grazie. Infine grazie alla nostra piccola vittoria, la nostra tempesta e la nostra pace. E' instancato dai motori che rende le nostre vite ancora più ricche in cantinate. Divertenti e orgogliosi. Grazie a tutti. grazie